buonasera a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce il mio nome rossella pani io sono un insegnante di guarigione energetica con le nuove frequenze di luce in questo video ti mostrerò come accedere a questo nuovo livello di guarigione ma prima di fare questo ti svelerò uno dei tre segreti sconosciuti al 97 per cento dei facilitatori della guarigione che se applicati ti danno la possibilità di accedere a queste nuove frequenze di luce in un livello vibratorio molto elevato e senza assorbire il pesi delle altre persone con la protezione sacra dell'arcangelo michele ebbene il segreto è la protezione molti operatori olistici di guarigione non praticano la protezione psichica prima di facilitare la guarigione sugli altri questo è sbagliato dal mio punto di vista essendo io un'anima molto sensibile all'energia e molto empatica tendevo ad assorbire i pesi degli altri da quando ho iniziato a praticare la protezione psichica questo non avviene quindi stai tranquillo stai tranquilla perché sentirai l'energia nelle tue mani accederemo a questo campo di frequenze ma riceverai solo la luce l'amore più grande perché prima di tutto inizieremo a fare una preghiera di protezione sei pronto sei pronta bastano solo tre minuti del tuo tempo ok bene iniziamo con la preghiera di protezione invoco la divina presenza di dio dea onnipotente padre e madre i miei angeli custodi il mio sé superiore gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le persone qui presenti invoco te arcangelo michele invoco il maestro gesù maria regina celeste e tutti gli angeli della coscienza dell'arcangelo michele e vi chiedo di tagliare tutte le corde di paura tra me e tutte le persone coinvolte che riguardano questa vita sulla terra le altre vite in tutti i sistemi di realtà in tutte le dimensioni e in tutte le direzioni del tempo spazio arcangelo michele ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità affinché durante queste sessioni di guarigione vi possa essere un interscambio di sola luce e di solo amore e che tutte le persone coinvolte possano ricevere la guarigione più appropriata per loro e per il loro massimo bene grazie caro dio grazie arcangelo michele grazie al maestro gesù grazie a tutti gli angeli a tutti gli esseri di luce di amore puro che stanno partecipando in questo lavoro di guarigione e così è vedete è molto semplice non vi è nessuna tecnica ora potremo accedere alle nuove frequenze di luce per iniziare ti chiedo di mettere la mano destra davanti allo schermo del pc oppure davanti allo schermo del cellulare perché io inizierò ad interagire con le nuove frequenze e lavorerò intorno alla tua mano ok quindi rimani in ascolto se se vuoi puoi chiudere gli occhi e ascoltare attraverso un nuovo senso il sentire puoi sentire calore puoi sentire vento puoi sentire formicolio magnetismo è molto soggettivo cambia da persona per solo ora estando le frequenze cosa percepisci normalmente queste frequenze si espandono con la distanza diventano più potenti riesce a percepirlo forse sei troppo emozionata o emozionato mettiamola così metti il palmo della mano sinistra verso l'alto e la mano destra fa dei movimenti circolari intorno alla mano sinistra ora dovresti iniziare a sentire il campo di energia prova a fare così con le ditta riesce a percepire le onde energetiche cambiamo le mani la mano destra va verso il basso la mano sinistra verso l'alto facciamo dei movimenti circolari ora mettiamo le mani così segui esattamente i movimenti che sto facendo io riesce a sentire il campo ora espandi riesce a sentire l'energia che si espande bene io spero che tu hai percepito le frequenze anche se solo per pochi minuti se sei interessato se sei interessata a ricevere maggiori informazioni in riguardo ai cinque errori che commettono gli operatori di luce facilitatori della guarigione ai tre segreti per superare questi errori ho creato un training completamente gratuito proprio per aiutare le persone a migliorare la propria formazione a comprendere questi concetti proprio per trasmettere quello che il messaggio della protezione dell'arcangelo michele quindi se sei interessato se sei interessata clicca qui giù e iscriviti al training è completamente gratuito ci vediamo dall'altra parte un salutone ciao ciao